Andverts Revasso Revisione Maria Gennic Revisione Maria Valencia Revisione Signore, Signore Drentando un aia nobo, milo che rapidi di cura so, patata protegà e bendicionà, turfa mia, animo rumano, si buacai, lanta, animo arubiano luchador, viva boffè e non perde speranza, no, nonca, un topatilante sin reserva, un dios me me di nos, nos lo da vencedor, felice aia, mi duche e pueblo. O danne buaia no bo durmi xona, o danne ta eri aia nobo, o danne ta promediani guari, o danne ta un dia de buaia, o danne no sabini va cantavo, o danne va cantavo e aia nobo, o danne no sabini va salutavo, o danne salutavo e aia nobo, o danne va cantavo e aia nobo, o danne va cantavo e aia nobo, o danne no sabini va salutavo, o danne va cantavo e aia nobo, o danne tradizioni no sabubai, o danne tradizioni eterno pueblo, o danne ta entanti aia nobo, o danne una gaya gente grande, o danne gente fuerte e trajador, o danne incansable luchador, o danne venti xona abundancia, o danne vedi 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 xona abundancia, O danne mamma maria pinigelle O danne bendicione a su aia nobro O danne un taggetano a su guardador O danne un bendicione eterno al pueblo O danne pueblo nobile luchador O danne pueblo amable y vencedor O danne nos ha suplicato al señor O danne l'alba guardano suscisa O danne l'islamo a suscide parite O danne ha rubato un quarti universo O danne tranquili da fa nosa ruba O danne prosperi da na abundanzia O danne iena infermo funferanza O danne diosta cul nostru costo dreccia O danne bendicione a su cultura O danne cultura dinos cante O danne humben tu pa conservende O danne nos pa cele pa nosi una O danne van conserva nos pa fiamento O danne te idiomi nos aruba O danne ta elega dinos grande O danne patrimonio dinos llenar O danne viege ora dinos pa O danne nos avaicu nos parana O danne mocho a noso volve O danne paganta buena aña dobe O danne mayata ni pavo porca O danne mayata ni pe cariño O danne mayata ni pe anecho O danne turcos bombe aña dobo O danne mayata ni pe cariño O danne gamo kara 모든 O danne mayata ni pe craval O danne mayata ni pe cariño Oh Dande viva, viva Yanovo! Viva Yanovo! Viva Yanovo! Viva Yanovo! Viva Yanovo! Viva Yanovo! Conversando con Rey de Dande 2019, pero Rey de Dande numeroso vez, un joven que ha comenzado a participar desde chiquito en varios festivales. Jonathan, es un placer a trope de Wabo participar en este año, de Wabo como un joven con trayectoria larga del festival en este año, aportando en este festival. ¿Cuántos años ha participado en este festival? Viva Yanovo! Primero de otra cosa, yo no estoy en la televisión, y en la radio oyente. Mi primer viaje, me ha participado en este festival en este año, me ha terminado en siete años. Ok. ¿Y vos tienes un conteo más o menos de viajar en Cuba a Ghana, de tours y festivales juntos, cuando viajas? Sí, total, contando infantiles, todas las categorías, por ejemplo, hay otras tres categorías infantiles de la otra cosa. Un viaje en cada categoría, cuvenilta tres, y de grandes dos viajes, en total cinco. ¿Y para mí viajar en Cuba a participar como adulto? Sí. ¿Va a Ghana, ¿verdad? Correctamente. En 2005. Sí, correcto. Y en el año pasado, desde el año pasado, me acuerdo, cuando salí de Dande. Correcto. Y aquí, todo por todo, con un tremendo mensaje, un tremendo contenido. ¿Cómo te sientes, Jonathan? Ahora voy a presentar a Dande. Sí. 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 Pero, no, naturalmente, para mí, es un honor, un placer, por presentar tres en un mensaje, de forma que en adelante. ayer a Tuval, me está apropiando, me está apropiando, me está apropiando, me está apropiando con alguna gente, entonces, me dice que, para mí, es Dande, está una canción así, así, con un poder más, único, más, una canción poderosa, pero es una bendición, una bendición de ahí, no voy a canción que está. Entonces, me está queriendo, ahora voy a cantarle, está turbo, mi deseo, una turbo emoción, está turbo, proyectar, en el pueblo, entonces, me está queriendo, me está apropiando, me está apropiando, me está apropiando, en el lugar, para pensar, de personas, que hay muchas esperanzas, hay muchas esperanzas, hay muchas esperanzas, hay muchas muchas apoyas, para regresar, y para regresar, porque, voy a hacer un viaje, así, me está queriendo, aquí, e magari è difficile per noi, ma che è difficile per noi. E quindi è molto importante. E con noi, ci sono molto più difficili. E con noi, ci sono i nostri amici e aiutare i barri per l'alte. Mi arriva a che, a pesar di che non c'era il pubblico, ma non ha affettato la presentazione. E soprattutto, ci sono mille e mille di persone che stanno guardando e ci sono quello che ho trasmettato. di quun avevo come uova è importante per partecipare di un festival e sì Buongiorno, mi piace che il festival Dande è un motivo ma grande per me è uno che è molto giusto di noi è di piccola ma ho visto ma l'anno è apportato mi tanto se amo e mamma sempre apportato la mia cultura per lo che mi piace ma mi piace Dande particolarmente è l'unica cosa il aspetto di nostra cultura che era originalmente già. Non si non c'è una c denominazione criolle, non c'è una danza, ma c'è una tumba. Ma è una tumba di una nostra cassa in Viena, di Austria. La tumba non c'è compara la comunità con il corso, ma qui è la prima cosa che nascita di nostra. E infortunatamente qualcosa più bonito è me è. Che mi chiede a parcellare con me, è il mio festival preferito. Mi chiede che voi eri volete compromettì per curare un tempo di vita e salute? Volevo apportare e cantare. Sì, apportare e cantare. Ma avevo un anno che non ho scritto un Dande completo per provare a viaggiare per un partecipante. E l'ho mentionato un nome. Sì, l'ho mentionato un nome. Sì, l'ho mentionato un nome. Quindi provare a scrivere un Dande completamente per un partecipante e mi chiede la scena del futuro. Non solo per comprare un Dande, ma sicuramente per un festival, un hymne e bandera. Si non ho intenzione. E poi mi chiede a portare di una forma. E poi mi chiede con... Mi chiede con i miei idee. Mi chiede con i miei cose. E poi mi chiede con i miei cose. E poi mi chiede con i miei cose. All right. Buon mensaje, Jonathan. Per tutti che stai guardando qui. Mi mensaje... Per il Pueblo di Aruba. Per il Pueblo di Aruba. E allora qui ne sono diventare facile. E poi ho sentire con il Pueblo di Aruba. E poi mi chiede con il Speranza di Papa Joe. E poi mi chiede con i miei cose. E attraggando e mantenendo la riunione. E noi ci è un pobli di persone che erano valente, che erano lavoratori, che erano l Cheeseagna. E io mi chiede con i miei cose. E poi mi chiede con i miei cose, E poi ci sono un altro momento. Perciare un anno che ci sono raffetto. E poi ci sono raffetto. E' un tempo di chiede. Grazie Jonathan, spero di essere successo e grazie a tutti e grazie a tutti e grazie a tutti e grazie a tutti i televidenti. Grazie a tutti.